Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in apertura partendo da Trapani dove i carabinieri hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di rapina, furto e in debito utilizzo di carte di credito. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani nei confronti di quattro soggetti trapanesi, tre uomini di 25, 34 e 53 anni e una donna 37enne per i reati di rapina in abitazione, furto e in debito utilizzo di carte di credito e di pagamento. L'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani e avviata a seguito della denuncia presentata lo scorso mese di ottobre da un 48enne del luogo ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei quattro indagati, documentando che la 37enne e il 34enne, quest'ultimo con volto parzialmente travisato e armato di coltello, avrebbero da prima perpetrato una rapina in abitazione asportando alla vittima il telefono cellulare e il portafoglio contenente denaro contante e due carte prepagate, con le quali avrebbero effettuato, nei giorni successivi, acquisti in esercizi commerciali di Trapani. Il 34enne inoltre, dopo pochi giorni, avrebbe tentato di perpetrare un'altra rapina in abitazione sempre utilizzando un coltello e rubato un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via di Trapani. Nel medesimo periodo, in concorso con il 25enne e il 53enne, si sarebbe introdotto in un panificio di custonaci asportando elettrodomestici e generi alimentari. A conclusione dell'attività è sulla base degli elementi emersi. Il 34enne è stato tradotto presso il carcere di Trapani, la 37enne agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e gli altri due sottoposti al divieto di dimora nei rispettivi comuni di Trapani ed Erice, con il divieto di allontanarsi dalle proprie abitazioni durante le ore notturne. Svolta nell'omicidio Castronovo il bracciante agricolo ucciso nel 2022 nelle campagne dell'Agrigentino. Carabinieri che hanno eseguito un arresto e diverse perquisizioni. Tutti i dettagli nel servizio. Svolta dopo 18 mesi dall'omicidio di Angelo Castronovo, un bracciante agricolo di 65 anni ucciso il 31 ottobre del 2022 nelle campagne dell'Agrigentino. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e decine di perquisizioni personali e domiciliari sono state eseguite fra Palma di Montechiaro e Licata dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Un indagato è stato arrestato mentre altri, indagati a vario titolo, sono stati sottoposti a perquisizioni per cercare ulteriori fonti di prova per individuare eventuali complici. Oltre 70 i carabinieri coadiuvati dallo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, dal nucleo elicotteri e dal nucleo cinofili di Palermo che hanno eseguito il provvedimento firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura. Il fascicolo d'inchiesta è stato coordinato dal pubblico ministero Giulia Sboccia e dal procuratore aggiunto Salvatore Vella. Ci spostiamo a Catania dove la polizia ha indagato un giovanissimo, un 14enne, il quale aveva ricattato e minacciato un coetaneo di divulgare delle sue immagini intime. Un ragazzo di 14 anni, residente a Catania, è stato individuato quale presunto responsabile di condotte di pornografia minorile nei confronti di un coetaneo a seguito di indagini condotte dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania e coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni. Il minore ha ottenuto delle immagini della vittima da lui già conosciuta in atteggiamenti intimi e tramite un falso profilo social ha iniziato a ricattarlo chiedendogli altre foto e video dello stesso contenuto, altrimenti avrebbe divulgato quelle già in suo possesso. Il ragazzo, accompagnato dai genitori, ha subito denunciato i fatti alla Polizia Postale. Le indagini, immediatamente svolte, hanno permesso di risalire all'utilizzatore del falso profilo nei confronti del quale il pubblico ministero ha emesso un decreto di perquisizione. Al minore indagato sono stati sequestrati dispositivi informatici in suo possesso, la cui analisi ha confermato le sue responsabilità. La Procura per i minorenni di Catania, in questi ultimi mesi, ha ricevuto da parte della Polizia Postale diverse informative di condotte illecite compiute da adolescenti e riguardanti immagini di pornografia minorile ottenute anche mediante applicazioni di intelligenza artificiale. Si tratta del cosiddetto deepfake, ovvero video e fotogenerati che utilizzano software di intelligenza artificiale capaci di modificare dati reali e renderli credibili. Cambiamo decisamente argomento dalla giunta regionale 16 milioni di euro destinati alla crisi idrica e ovviamente al settore agricolo. Quasi 16 milioni di euro per affrontare la crisi idrica e per sostenere il settore agricolo. Questa è la misura principale prevista nel disegno di legge e disposizioni finanziarie varie approvato dalla giunta regionale siciliana e che sarà trasmessa all'Ars. Per quanto riguarda l'emergenza siccità, il disegno di legge prevede la costituzione di un fondo al Dipartimento regionale della protezione civile da 9 milioni di euro per gli interventi immediati conseguenti alla dichiarazione di stato di crisi. Circa 6,9 milioni di euro tra stanziamenti e minori introiti invece sono previsti per sostenere il settore agricolo. In particolare 5 milioni serviranno per i contributi alle aziende di allevamento, per l'acquisto di foraggio e per l'approvvigionamento idrico per gli animali. Altri 400 mila euro andranno a copertura dei costi degli esami di laboratorio e delle spese veterinarie sostenute dagli allevatori che praticano la transumanza di bovini all'interno del territorio regionale. Inoltre è previsto l'esonero del pagamento del canone dovuto per l'uso dei pascoli del demanio forestale, un provvedimento che comporterà alla regione minori introiti per 1,5 milioni di euro. Il calcio con il Palermo che frena ancora nel campionato di Serie B ma stavolta può essere considerato un pareggio positivo 1-0 al Barbera ma contro la capolista Parma e si tratta del terzo pareggio in altrettante partite per mister Mignani subentrato, lo ricorderete a Corini. Sentiamo proprio le dichiarazioni del tecnico rosanero a fine gara. Io della prestazione sono contento perché secondo me c'è stato un ulteriore step di crescita rispetto alla partita con la Sampdoria e con il Cosenza, poi è chiaro che non possiamo accontentarci di un pareggio, però a volte le partite vengono decise da episodi, noi abbiamo avuto anche alcuni episodi che avrebbero potuto farla pendere dalla nostra parte e non ultimo l'occasione di Buttero che poteva darci il vantaggio e poi c'era a giocare un altro po' però io credo che nel complesso, considerando anche l'avversario che avevamo davanti, la squadra ha giocato con personalità, con presenza in campo e ha dimostrato che voleva vincere la partita. Prendiamo i lati positivi di questa partita, contro una squadra forte come il Parma abbiamo concesso non tantissimo, la squadra è stata compatta e adesso dobbiamo cercare di capitalizzare quando arriviamo nell'area di rigore degli avversari perché spesso ci siamo arrivati. Tutte le squadre in questo momento hanno bisogno di punti perché deve salvarsi, perché deve raggiungere una promozione, perché deve raggiungere un obiettivo e è chiaro che noi se rigiochiamo in casa ma giocare in casa o giocare fuori non cambia molto, dobbiamo avere la mentalità che quando giochi devi giocare per vincere, ma secondo me oggi la squadra l'ha fatto e l'ha anche dimostrato. I ragazzi stanno crescendo nella personalità, nel trovare soluzioni per muovere la palla velocemente e questo è importante perché se muovi la palla velocemente trovi degli spazi alle spalle degli avversari, quindi questo l'hanno fatto bene, è un altro step di crescita e bisogna fare gol. Dal calcio al volley con la Saturni AC Castello che ha annunciato il nuovo title sponsor per la stagione 2024-2025. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Cosedil SPA, l'impresa di costruzioni civili ed infrastrutturali fondata da Andrea Vecchio nel 1965, sarà il title sponsor della Saturni AC Castello per la stagione 2024-2025, quella in cui i bianco-blu disputeranno il campionato italiano di volley di serie A2. L'ufficializzazione della partnership durante la conferenza stampa che ha avuto luogo nella sede di Cosedil SPA a Santa Venerina, appuntamento al quale erano presenti il presidente della Saturni, Luigi Pulvirenti, e i dirigenti della società e della Cosedil con a capo il geometra Andrea Vecchio, presidente e fondatore della società di costruzioni. Quella annunciata è una partnership basata su valori comuni alle due storiche realtà siciliane che nel 2025 saranno unite da un altro importante evento, i 60 anni dalla loro fondazione. L'idea è quella di dare vita a azioni concrete rispetto al payoff del nostro logo che costruiamo il tuo domani, quindi dare la possibilità di trasferire il valore aggiunto che creiamo con la società nel territorio e la palla a volo alla quale siamo legati da qualche anno è il modo migliore, soprattutto in un momento nel quale a Catania si arriva da una retrocessione e si vuole andare a riconquistare la massima serie. Noi siamo sicuramente orgogliosi di poter annunciare questa partnership con una delle aziende più prestigiosi del nostro territorio che negli ultimi anni con merito ha saputo ritagliarsi un ruolo di leadership nel mondo delle infrastrutture strategiche a livello nazionale, siamo sicuri che insieme potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi e che dal punto di vista sportivo non ci siamo mai nascosti, sono quelli di provare a tornare in Superlega e certamente avere un'azienda come Cose di Lele Spalle insieme a tutte le altre che anche quest'anno ci sosterranno è per noi un motivo di non soltanto soddisfazione ma anche un qualcosa che dà stabilità e profondità al nostro progetto sportivo. Parliamo ancora di sport, in questo caso però di una iniziativa della Regione riservata ai giovanissimi siciliani. Pronti per essere erogati i voucher della Regione siciliana per la pratica sportiva nel 2024, sono destinati ai minori dai 6 ai 16 anni per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di associazioni e società dilettantistiche siciliane affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, oppure dal CIP, il Comitato Italiano Paralimpico. Oltre mille le realtà a cui sarà possibile richiedere il contributo a partire dal 26 aprile. L'iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione siciliana e al suo secondo anno, è stata riproposta per garantire il diritto allo sport per tutti e contrastare l'abbandono della pratica motoria da parte dei minori delle famiglie siciliane meno abbienti e supportare al contempo le organizzazioni sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio. Alla manifestazione di interesse per il 2024 hanno aderito 664 associazioni con sede in Sicilia affiliate al CONI o al CIP che si sono aggiunte a quelle che hanno partecipato nel 2023 inserite d'ufficio tra quelle aderenti per un totale di 1.129 realtà ammesse. Il voucher, da concedere prioritariamente ai nuovi praticanti residenti in Sicilia per un massimo di sette mesi, è comprensivo della quota di iscrizione e assicurazione e a un valore di 50 euro mensili. Può essere speso nel corso del 2024 per i corsi e le attività proposte dalle società aderenti all'iniziativa. L'agevolazione può essere richiesta per i minori, il cui nucleo familiare d'appartenenza ha un ISEE 2022 non superiore ai 12.000 euro. Per quest'anno la misura un plafond di 3 milioni stanziati nell'ultima finanziaria regionale e ripartiti a livello provinciale sulla base dei dati Istat della popolazione giovanile compresa tra i 6 e i 16 anni. Le famiglie potranno fare la richiesta del voucher direttamente alle società e alle associazioni sportive ammesse entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso del Dipartimento regionale dello sport nella gazzetta ufficiale della regione siciliana prevista per il 26 aprile. Un'altra bella iniziativa invece ad Acireale nel Catanese per la precisione nella frazione di San Cosmo. Ad Acireale è stato inaugurato il rinnovato campo di calcetto in sintetico nella parrocchia ai Santi Cosma e Damiano guidata dal parroco Don Rosario Pappalardo. Presenti come ospiti il direttore generale dell'Acireale Calcio Pasquale Leonardo con alcuni tesserati, il presidente del CSI Comitato di Acireale Salvo Raffa con l'assistente spirituale Don Egidio Vecchio. Per l'occasione è stato disputato un triangolare tra le squadre della parrocchia Caritas e Associazione Mai Più Soli, i tre enti che hanno permesso insieme ad alcuni benefattori la realizzazione dell'opera. Investire in progetti che promuovono la cultura e l'integrazione sociale attraverso lo sport è uno degli obiettivi che il Vescovo Monsignor Antonino Raspanti intende raggiungere nel territorio. La diocesi, notoriamente impegnata nel supporto a persone in difficoltà, può vedere in un campo di calcetto uno strumento per favorire l'inclusione e il senso di comunità tra giovani e meno giovani. È anche un punto di ritrovo comunitario dove è possibile organizzare eventi e attività che vanno oltre il semplice giocare a calcetto, inclusi i programmi di formazione e incontri educativi. Lo sport è un punto di aggregazione, è una forza, è una forza sociale, è una forza di comunione, è una forza di pace anche, è una forza di condivisione e di fratellanza. È quello che in qualche modo qui oggi vogliamo rappresentare tutti quanti noi, nella nostra semplicità. In questo gesto di dare un calcio a un pallone è una solidarietà di aggregazione e di stare insieme. Lo stare insieme è fare comunità, è il grande dono che Dio ci ha chiesto. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.